musica 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 bene ok ci vediamo su una bandiera da sopra a più ok ehh suca con nudo musica 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 attenzione che bello chi è oh ah si ah 40 su 40 tra poco entriamo di figuro questo passa alla carità mi ha sparato in dismal mi ha fatto segnare ho ucciso ho ucciso uno una pistola ma che cazzo che ha mi spado che cazzo è che ha mi spado che cazzo è che ha mi spado ma nn nooo ok due uccisi nooo E' un'altra parte di me. Buonasera animato! Chiudi? Thank you Mattè. Ma sei... Ma sei big boss di... Meta che? Sì. Oh, animato! Strici verso di me! Ecco. Ci ho provato a mettere un piede per sbaglio. Ho ucciso pure lo diabolico. Due Kivius. Mattè ti stava puntando Eratius. Eh, lo so, mi sono sparato un botto di gioco. Ho ucciso Cazzo. Aia! Stanno nella prima trincea. Ho ucciso! GP! Un tirino di legno. GP! Mi stava puntando. Comunque la skin poi non è in piano italiano o altrimenti... A destra, a destra. Occhiti a destra sta la medaglia di gioco. Non lo vedo. Oh! Fuciline nemico! A destra e via! Vesso la casa matta distrutta con il fuoco. Garganta! No! Certo che è qui via! È da per essere il preciso. Ho ucciso qui! Come ha dovuto essere uscito? Ma c'è nessuno uscito? Come hanno uscito questo? No, ma come l'ho ucciso è questo? Aiaia! Ti metti lo spugno sull'alleato e poi andiamo sopra una collina e tutto il fuoco. c'è c'è no 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 cazzo davanti aspetta un attimo che ne ho uno qua l'ho ucciso adesso torno sopra che hai detto e c'era uno al barco sto cercando di andare su a perché mi ha fatto sponare 14 km quanti cazzo sono ucciso Matteo la finestra stiamo vincendo questa battaglia nooo quasi accisa quella tempo di cambiare è un trucco in vista ragazzi ok due uccisi oh due da me non mi ha piaciuto bello è nato morto sono sponato sotto la mappa morto bene azzurri qua sempre in cera ma sono solo qua quando si? scusa io sono in cera ma c'era ufficiale sopra di me ma in bici non mi ha fatto e mi è avuto il ragazzo non mi ha fatto non mi ha fatto non mi ha fatto ma non mi ha fatto e il gioco nooo nooo ho spato qua E vabbè poi muoio io Ci sta dai, questo gioco è molto bello ragazzi Mi avevo visto le maniche in più Mi ha ucciso a questa Sta venendo verso di voi Ci siete subiti Occhio, sono sulla strada No uno ha lasciato Patriot Sniper, non tanto Sniper Oh fino a l'era Oh ragazzi Forza Sniper, non tanto Sniper 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 Mi ha venduto Mi ha venduto Oh Oh C*** Sì Sì Sniper 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 Oh 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 che si faccio un isolo sopporto per che si dica e mandare in serie piaus su un gara che succede? oh c'è uno con lo spinda vedi noi no è il nemico, forse era un po' più baggato era velocissimo vedi 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 che ho detto via pom? 3 step no per se era un po' più baggato stasera mettiamo via al bando ma vado a togliere una bomba stanno giusti in un spazio ma sto a togliere ragazzi aspettate aspettate inizio e vai fatta ragazzi imbotto ragazzi aspettate che rispondo se io voglio ma a te t'ho vendicato no t'ho vendicato però continuate avanti Savoia c'è in fuoco amico solo che uccisi due toglie meno dieci punti di penalità eh ma non fai da mi dottate le maschere 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 sono tutti là dove? non c'è ne esiste i decise con le contesi è l'uccido attraverso attraverso lo cazzo di gas mannaggia luce ma che cosa fai a venere che cosa fai a venere? mi dottate le maschere mi dottate le maschere due gas quello madrone e quello verde non si parla non so tutti ma affatto a uccidere Sono ferito Cazzo ho raggiunto 200 kill Comprimente Che fai sponare? Guarda Cazzo non ho sponato Neanche di trovare Ne deve l'altro buccio Perchè portare Non ho sponato Ma guarda dove fai sponato Ma come in cazzo Io non sono fatto a morire Sto mottando in cazzo Ti rendi conto? Non ti si vede Va bene Va bene Ma non ci posso Non ci posso Lo facciamo vedere qua Sììììììììììììììììììì! State di gioco Fortsun abonui sempre Luigi